Marika! Scusate? Si sta indietro? Dietro, dietro, dietro! Allora, buongiorno a tutti. È un grande giorno di festa oggi perché l'inaugurazione della scalinata di Trinità dei Monti è una restituzione non solo ai cittadini di Roma di uno dei monumenti più rappresentativi, uno dei monumenti forse più simbolici della città, più conosciuti al mondo, ma è la restituzione di uno spazio funzionale, cioè di una scalinata che fu realizzata tra il 1723 e il 1726 per accordare le pendici del Pincio lungo via Sistina dove si affaccia la Santissima Trinità dei Monti e Piazza di Spagna. L'arte di Bulgari è stato da 132 anni molto molto ispirato a livello creativo, a livello delle forme e dei materiali dell'arte e dell'architettura romani, tant'è vero che i nostri gioielli più incodici, quali B-Zero One che richiama il Colosse o piuttosto che Diva Dream che richiama i mosaici di Caracala, sono nati proprio nella testa dei nostri creativi da queste meraviglie che troviamo nella città di Roma. I lavori di restauro conservativi di questa bellissima scalinata di Trinità dei Monti sono terminati, da domani la scalinata riaprirà al pubblico e tornerà ad essere pienamente fruibile. Per questo dobbiamo ringraziare la Maison Bulgari che si è fatta promotrice del restauro di uno dei simboli di Roma, consolidando quello che è appena stato espresso, sia il fatto che la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato è possibile, è veramente possibile. Comunico che ovviamente l'amministrazione ha già preso provvedimenti e si impegnerà attivamente affinché la scala e la scalinata sia mantenuta il più a lungo possibile in questa bellissima nuova veste, in questo splendore, quindi ci attiveremo da subito per evitare appunto quegli utilizzi impropri che poi hanno portato al degrado di questa scalinata prima di questo importante evento di restauro.